60 lettere inviate dai vertici Tales ad altrettanti lavoratori per informarli del trasferimento nelle due sedi di Gorgonzola e Sesto Fiorentino e che arrivano nel bel mezzo delle trattative in corso con la regione Abruzzo. Una forzatura che contrasta con il manifesto interessamento di due imprenditori che potrebbero salvare le sorti della sede di Chieti e dei lavoratori presenti. Il motivo per il quale i lavoratori sono tuttora giustamente ancora immobilitati è perché in un modo, devo dire, un po' sconcertante mentre in corso questa trattativa arriva una lettera che chiede lo spostamento di 60 lavoratori da Chieti a Firenze. Voi dovete capire che questi signori che noi abbiamo trovato, che il territorio ha trovato, sono interessati a venire qui fondamentalmente perché sono questi lavoratori. Per la professionalità le competenze. Se mentre in corso una trattativa tu compi un atto che tende a portarli via, evidentemente rendi la trattativa non possibile. Siamo di fronte, non lo voglio chiamare boigottaggio, ma certamente ha un comportamento sconcertante. I sindacati dopo 44 giorni di presidio in interrotto considerano l'iniziativa della società come un atto di forza verso un dialogo che dovrebbe invece mettere tutti intorno a un tavolo cercando di appianare divergenze e difficoltà. Io rispondo all'azienda dicendo che questa operazione di trasferimento rafforza la nostra convinzione perché a questo punto tutti sono consapevoli del fatto che hanno di fronte un'azienda poco seria e che gioca, io direi, usando un eufemismo, gioca sporco. Quindi noi continuiamo con lo sciopero e vogliamo assolutamente che l'azienda torni al tavolo e torni per discutere seriamente. È chiaro che c'è adesso un'interlocuzione con degli imprenditori che vorrebbero acquistare l'azienda, per noi questo è sicuramente un ragionamento che consideriamo una buona opportunità.